Domenica di Pasqua 1 aprile e lunedì di Pasquetta 2 aprile 2018, il museo e l'area archeologica di Pestum saranno regolarmente aperti dalle ore 8.30 alle ore 19.30, emissioni ultimo biglietto ore 18.50 e il giorno di Pasqua, prima domenica del mese istituita dal MIBACT, c'è l'ingresso gratuito per tutti, è necessario ritirare il biglietto d'ingresso gratuito presso le biglietterie. Domenica 1 aprile ore 11.30 e 16.30, Family Lab Pestum, un viaggio per tutta la famiglia, alla scoperta dell'antica storia della città di Pestum, appuntamenti ogni prima e terza domenica del mese. L'iniziativa dura un'ora, durante la quale i partecipanti saranno guidati lungo un itinerario a tema, a cui seguirà un laboratorio dove adulti, bambini e ragazzi potranno liberare la propria creatività realizzando disegni e sculture, ogni data avrà un tema diverso. L'appuntamento di questa domenica vedrà protagonista l'eroe Eracle, ore 10.30 appuntamento alla biglietteria del museo per il sentiero degli Argonauti, realizzato grazie alla collaborazione di lega ambiente Pestum. Si tratta di una gradevole passeggiata dei templi al mare, attraverso un percorso tra archeologia, storia e paesaggio. Il percorso, che da quest'anno si arricchirà anche di pannelli informativi, è di facile percorrenza ed è lungo circa 2 chilometri. Inoltre nel museo si terrà la mostra delle armi di Atena, il santuario settentrionale di Pestum, che sarà possibile visitare tutti i giorni, dagli 8.30 alle 19.30. Emissione ultimo biglietto di ingresso, ore 18.50. E il primo e terzo lunedì del mese, dagli 8.30 alle 13.40. Emissione dell'ultimo biglietto, alle ore 13.00. Grazie a tutti.